Cari amiche e cari amici, questa sera diretta con il decimo toro alle ore 21.30. Vi consiglio però di entrare in diretta alle ore 21.15 perché così se avete qualsiasi tipo di difficoltà vi aiuteremo ad entrare. Chi non è mai entrato deve scaricare un programmino che si chiama Zoom, semplicissimo da usare, che va bene sia per cellulari che per computer. Alle 21.15 pubblicherò l'identificativo e la password per entrare. Zoom contiene al massimo 100 persone, l'altra volta eravamo circa 90. Mi raccomando che è obbligatorio mostrarsi in video. Chi ha difficoltà da questo punto di vista può fare come me, che mostra mezzo volto o si riprende in penombra, ma è obbligatorio mostrarsi in video. Riguardo al gruppo del Rosario, questo comincerà mercoledì 29. Ne parleremo stasera nella diretta e poi daremo ulteriori indicazioni durante la settimana. La recita di un Rosario in latino, alcuni si erano fatti il problema di non averlo mai recitato, di non conoscere il latino, ma non ci sarà problema perché ci sarà un foglio virtuale sul quale potete leggere il Rosario. E quindi, ripeto, stasera 21.30 è la diretta a Decimo Toro. Entrate alle 21.15 quando sarà pubblicato l'identificativo e la password qui sul canale sotto questo video. E per il Rosario in latino, l'appuntamento è mercoledì 29 alle ore 21.30. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.